Bellissimo, è sempre stato un sogno per me venire qua. Quando ero piccolo, sai che ero un grande tifoso, adesso in Milano, essere qua è un grande onore per me. Quando ero piccolo, guardando Gullitte, Rijkaard, Van Basten, Maldini, è sempre stato un sogno per me, era sempre la mia squadra favorita. Certamente, sempre nel cuore, guarda nel mio spogliatoio in Los Angeles, una maglietta AC Milan, una scarpa AC Milan che lo metto dentro il mio spogliatoio e lo vedo ogni giorno.